E' stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione al pagamento di 1.500 euro di multa un ragusano di 41 anni, residente a Vittoria, Angelo Campagnolo, pluri pregiudicato per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio a esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. E' stato riconosciuto colpevole dei reati di tentata e estorsione continuate in concorso e danneggiamento. I fatti si sono verificati nel marzo 2005 quando un esercizio commerciale di via Roma fu dato alle fiamme. Episodio che aveva destato notevole allarme sociale. Immediate erano scattate le indagini avviate dagli uomini del commissariato di Vittoria e coordinate dal sostituto procuratore Marco Rota. I poliziotti avevano subito notato una strana presenza, quella del Campagnolo, che si era intrattenuto a parlare con il titolare del negozio subito dopo il danneggiamento. A seguito di laboriose indagini si è accertato che il 41enne, insieme ad altre persone allo Stato rimaste ignote, aveva dapprima piccato il fuoco al negozio per poi presentarsi al titolare a chiedere il pizzo. Per intimidirlo, l'estorsore non avrebbe esitato a mostrare una pistola che teneva sotto al giubbotto. Al termine delle formalità di rito, il 41enne è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa.